Come here and tell me you're sorry Laura Righi e Francesco Pazzelli È una storia di grande sofferenza L'infanzia è un coltello piantato in gola L'infanzia è stata l'unica parte bella della vita di Nawal e di Wahab Dopo la nascita del bambino precipita tutto E da lì, soprattutto per Nawal, la storia non vede più uno spiraglio di luce fino alla morte In cui rivede i Wahab e si ricongiungono Sì, infatti dice Dicono che di notte vicino alla roccia degli alberi bianchi si sentono le loro risate Perché noi saremo sempre insieme Sì, comunque anche questa è una frase molto importante che viene ripetuta all'interno del spettacolo Che è comunque molto ricorrente e ha anche un motivo Questa è stata una delle ultime parole che Wahab ha detto a Nawal prima appunto di Partire per la guerra e morire Quindi non tornare più Quindi è come se fosse una sorta di mantra Comunque qualcosa che Nawal appunto si ripete nei momenti di difficoltà E che appunto alla fine, ricongiungendosi con Wahab Ritrova la pace insieme a questa frase Grazie a tutti